Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars e signori eccoci qua con RT, il brawler videocamera e il video dedicato a questa dannata videocamera, si mi riferisco a quella, me lo state segnalando in tantissimi, sappiamo cosa succede, se la chiamo, questo video pieghiamo tutto o almeno ci proviamo. Questo dire il vero sarà il primo di due video che usciranno oggi, infatti ho già preso tutti gli star drop del giorno non a caso perché li ho presi parlando di un'altra novità che è uscita proprio nelle ultime ore ragazzi, vi dico solo, spoil del prossimo update, bene 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 ma oggi abbiamo altre news, infatti oggi urgeva un secondo video, cioè un primo video, urgevano due video. Io per il doppio content vi chiedo il like, ragazzi il like, iscrizione con campanellina in sto periodo è necessario ragazzi perché si sta delineando uno scenario su Brawl Stars molto interessante, molto interessante, qua gattaci cova ragazzi, qua gattaci cova. Allora prima di addentare la news della videocamera ci soffermiamo prima su un paio di cosette che mi avete segnalato e io come sempre ragazzi cerco di condividere tutto con voi. Alcuni mi segnalano il fatto di aver incontrato in partita dei Mortis Hockey che non dovrebbe essere normale in quanto questa skin non è ancora uscita, beh in realtà invece è uscita, è uscita proprio oggi mentre sto registrando questo video che è il 2 di novembre per errore, è uscito questa mattina, qualcuno è riuscito a prenderla e effettivamente c'è della gente che ha Mortis. E' praticamente uscita per sbaglio nel negozio, nel catalogo se non sbaglio, andando a selezionare Mortis, ecco c'erano alcuni player che lo trovavano qua in questa sezione, ok? Così a caso. E lo potevano effettivamente shoppare, quindi insomma vabbè ovviamente la skin era uscita per sbaglio e è stata rimossa. Vi segnalo solamente questo tweet al volo di Brawl Stars Esport, che tra l'altro ha fatto anche un post su Joker, Joker che è qualificato per l'Esport Mobile Player of the Year, mamma mia. Anche su Tensai, guarda che bello, fantastico, che bello, che bello. Comunque, allora ecco qua già c'è un tweet che vedremo poi meglio tra poco, noi prima guardiamo questo, cioè un annuncio che dal 3 novembre, quindi il giorno in cui siete guardati questo video, fino al 5, ci sarà il fine settimana Brawl Esport e usciranno due nuovi avatar, due nuovi spray e in teoria dovrebbe essere il momento in cui esce anche questa skin di Mortis, a meno che non l'abbiano anticipato ancora di più, però insomma. Comunque, al di là di questo ragazzi, poco più sopra, l'avrete visto, ci sta questo strano tweet, con questa descrizione del tweet molto strana. Se lo andiamo ad aprire, in parte questo video ve lo faccio vedere al volo, ci sta lo Star Park ragazzi, con tutti gli omini che si muovono all'interno, ok? Si vedono queste videocamere appunto della sala di sorveglianza dello Star Park, si vedono tutti i personaggi, guardate, le persone, effettivamente gli umani di Brawl Stars a quanto pare, che girano per questo parco, ok? Partono tutte delle script strane, reject, ragazzi, si vedono un sacco di robe, insomma, le scritte subito hanno ancora un senso in realtà, c'è la musichetta in sottofondo, guardate, guardate, con la fontana ragazzi, vi ricordate tutto il video della lore, dell'investitore? E poi proprio partono, partono cose a caso ragazzi, cioè, sono quei video un po' disturbanti, che però fanno capire che qua la lore di Brawl Stars si muove, infatti, secondo me, questo video è molto collegato al video che abbiamo fatto di recente, dedicato alla lore di Brawl Stars, andato da recuperare, che parla in maniera un po' più personale di tutti i vari brawler, ma da questo, come arriviamo in game? Beh, avete visto un pochettino questo tweet, no? Beh ragazzi, me l'avete segnalato in tantissimi, se pigiate su questa videocamera, succede un casino ragazzi, succede un casino, anomalia temporanea individuata, esci o inserisci? Vabbè, se faccio esci credo che torni in lobby, quindi esco, ok, ok, esatto, se riclicco invece mi manda qua, faccio inserisci, e ragazzi, qua parte un video, parte un'animazione, partono cose, le riconoscete queste videocamere? Sono quelle del tweet, allora, parte questa scritta, tra l'altro ci sono degli effetti sonori, degli effetti sonori strani, ci sentono dei rumori strani sottofondo ragazzi, abbastanza inquietante come cosa? Dicevamo, questo sito web presenta contenuti video in diretta, che possono consumare una quantità significativa di dati, ok? Se utilizzi un piano limitato, ok, quindi questa cosa qua è semplicemente il classico disclaimer per ricordarci che stiamo consumando dei dati e non il wifi, quindi no, diamo tranquillamente la possibilità di continuare. Allora, parte la musica dello Star Park, partono delle videocamere, allora io adesso qua cosa voglio fare? Faccio una foto a questa immagine che state vedendo, perché ci sono dei codici che potrebbero servirci tra poco. Se io premo, credo, posso farlo partire? No, ok, posso bloccare l'audio, ma c'è fondamentalmente solo una... Ah no, posso, posso cambiare videocamera, oddio, oddio ragazzi, che roba stranissima. Cos'è questo? Oh, ok, 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 calma, 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 allora posso premere su... Allora, ci sono già due elementi su cui posso premere. Posso premere sul libretto, ok, degli appunti, su cui ci sta scritto questo appunto delle 8,52. Allora, questo lavoro è davvero molto semplice, è ben pagato due settimane di ferie per guardare una telecamera in un parco dove non succede mai niente. La miglior sicurezza, il miglior lavoro di sicurezza di sempre. Ok, se giro qua, questo lavoro è noioso e c'è uno che gioca con le... All'attrice da solo praticamente, ok, e non ci sono altre pagine per il momento. Se premo qui, ok, ci abbiamo il timecoder e il security all'archivio di sicurezza e il timecoder. Allora, prima di andare sul timecoder e vedere cosa succede, non succede niente. Ah, ok, timecoder, inserisci l'ora del giorno, inserisci l'ora del giorno, beh l'ora del giorno c'è scritto. Sono 03, 11, 1995, è un po' vecchiotto questo, aspetta però, 95 e l'orario è 05 e quindi, vediamo un po', archivio non trovato. Ah, se vado sul archivio di sicurezza invece qua, cosa mi dice? Ok, qua non c'è scritto niente. Ah, ok. Allora, qui ragazzi, apro un po' il... tutto il discorso. Cioè, qua bisogna inserire il codice giusto. Ehm, io so ragazzi che il codice giusto l'hanno zeccato in pochi. Sono quelli della foto, provo a inserire quelli della foto, le foto le ho scattate, ce le ho qua. Allora, 03, 11, 95, 05, 11, 47. No, non me l'ha trovato, non è che cambia l'orario man mano che... Ragazzi, inserire quello giusto non è facile. Perché io tra l'altro ho visto che c'è qualcuno a cui ha funzionato questa cosa e ho provato a inserire il codice che ha funzionato a questa persona. Ma a me non funziona con quel codice. Quindi è possibile che questo codice non sia uguale per tutti. Allora, io non mi soffermo troppo su questo codice, su quale sia quello corretto, anche se adesso farò un po' di tentativi. Ma vi dico subito, in teoria, che cosa si dovrebbe ottenere. E la ricompensa, ragazzi, è questa. È un avatar speciale che, diciamo così, viene dato a chi ha risolto l'ester egg della videocamera. Salve, sono il Ferre del Futuro che sta editando questo video e cercando di approfondire questa cosa dell'avatar ho scoperto che in realtà non è stata confermata al 100%. Cioè, alcune persone hanno ipotizzato che, essendo questa icona della videocamera un'icona vista durante gli sneak peek sulle app sviluppatore dell'ultimo update fosse legata in qualche modo giustamente a questa cosa della videocamera. Però non è uscito nessun video di nessuno che inserisce uno specifico codice e sblocca quello specifico avatar. È ragionevole pensare che siano collegate queste cose, ma non lo posso dare come per scontato al 100%. Resta quindi una teoria. Mi raccomando, andiamo avanti col video. Ok? E quindi, insomma, sarebbe veramente un bell'avatar da flexare. Soprattutto a mettere su RT non sarebbe per niente male un avatar come questo, ma bisogna trovare il codice giusto. Allora, io posso provare a inserire, non so, il codice che ci stava nel diario. Niente. L'altro era 02085200. 0509000, qua 03, 070920. 070920. 070920. No, 070920 è uscito il botto che dico... No, provo a invertire. Ma non cambia un po'. Ah, ok, così cambia. Sì? Sì, ma adesso non c'è neanche più l'ora come prima. Allora, uscendo e rientrando le videocamere cambiano. Ok, ok, aspetta. C'è stato l'orario per un attimo, avete visto? Eh, infatti, vorremmo uscire di nuovo ad entrare. Provo a fotografarlo velocemente, a vedere se riesco a prenderlo col telefono. Vediamo un po'. Ok, l'ho fotografato. Vediamo un po', sto giro se va meglio. Allora, qua segna. 052345. 031195. No, se lo inverto invece 031195. 052345. Niente, ragazzi, non funziona. Eh, ma è impossibile, sono troppe combi... Eh, ma 5 schermi, non è che ogni schermo ha il suo codice, eh? Aspetta, sì, ogni schermo ha il suo codice. Sì, ogni schermo ha il suo codice, ma sono tutti uguali. Ok, no, uno cambia 1.46. Niente, ragazzi, non funziona. Però, cioè, secondo me è qualcosa legato al libretto degli appunti. Cioè, magari devo mettere, tipo, la data. E la data ci sta. E poi, magari, devo mettere 00, 07, 03. No? E se fosse l'altra data, 02, 00, 08, 42. No. Eh, e l'orario? E se provo la data di oggi, che è 02, 11, 23. E sono le 21, 27. Fatemi dare ancora un'occhiata qua. Eh, no. Eh, ragazzi. Ragazzi, questo enigma non lo risolveremo oggi, secondo me. Io ho fatto un po' di prove. Vi ho detto che cosa dovrebbe uscire fuori. Ovviamente, quando scopro come risolverlo, arriverà un content. Per il momento, io, quello che volevo fare, è portarvi l'informazione. E sono potuto dirvi qualche cosa serve. Perché qualcuno ci è riuscito, effettivamente, a sbloccare sto codice. E io spero che, insomma, in qualche modo vi sia stato utile. Se qualcuno di voi ci riesce, arricchisca i commenti di questo video con la soluzione. Possiamo tutti quanti sbloccare questo, questo pin, questo avatar speciale. Io spero, seriamente, che non ci sia un codice diverso per ogni account. Perché sarebbe un disastro. E noi ci becchiamo alla prossima, ragazzi. Un saluto da tutti. E ciao belli.